Ciao ragazzi, sono EdoZak e volevo dirvi che se vi siete persi il video di FIFA uscito ieri, andatelo subito a vedere perché è epico. Vi lascio il link in descrizione. In questo video invece vedrete ciò che è successo prima della registrazione di FIFA e quindi buona visione. Di un selmo! Cos'ha? Di un selmo! Dio, alzima! Odassi che io respiri profondamente, possiamo aspettare? E' il peso! Non c'è chiuso un cazzo, per cui è epico. Mettico cosa? Vedete che devo fare? Io cara spada! No, fai cosa che ti metto Shooting Stars dentro. In questo preciso istante potrete ammirare un esemplare di Matt Codice Fiscale Selvatico, in battaglia contro una zanzara gigante. Round one! Vi va, Vi, Mati. Arrivi. Prima. Appassi,捧 Izzy minute. Fhh!! E magari sono... Non è difficile. Non è quella che si dure? Ma non è? Ahhhh. Oh... André Cos acostumei right? Ch metals si chiede e... ... Ah, che semifinitas, e ture? Mi video deve partire da l'euto. ma perchè si spega? ma che si spega? aspetta so come ucciderla vai tu zack aspetta no 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 mi tre pare sai ho catturato un castoro l'ho presa lasciala lì dai qui eeeh che schifo no 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 eeeh 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 run ragazzi ma si muove ancora ma buttalo via al volo ahahah 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 fammi fammi un più ma cosa che devo dire? prendete e mangiateli tutti no devi dire e come mosè spezzolo no mosè e no e come mosè divise le acque no eeeh no eeeh aspetta il pane esatto vabbè aspetta la pizza ah prendete ma nooo non ce ne ho già la puntata totini no vaffanculo no no vaffanculo no 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 non c'è niente no aspetta aspetta prende un coltello prende un coltello prende un coltello prende un coltello te lo dirò io un pezzo ok così no mattina dai e questa è mia cosa tua ma che no ma che ma che pizza io lo spedete ma tu a joe bellissimo il falconnato no fermi il falconnato Ne hai mancato e due Come cazzo fatti ha un rigore così? Io non avevo premuto niente questo tira Ma andate a giocare a Call of Duty perché c'era Mi diamo i rigori di nuovo Io c'ho sete Uff Oh che cazzo è la luce Che dio è Dovevi farla da bovecchio Madonna Bellissimo Che partito Scusa Sabrino Cazzo è Sabrino Ma va se registrando ancora Fine